Il 9 gennaio 1924 nasceva Raffaele Fraticelli per il centenario del geniale poeta dialettale autore di testi per Rai Regionale e attore con Nezicar Minuccio scomparso il 1 novembre 2021 a Chieti una serie di iniziative per ricordarlo con una seduta straordinaria del Consiglio Comunale domani alle 10 nel Teatro Marucino aperta la partecipazione dei cittadini. Noi sin da subito della sua scomparsa purtroppo della sua ripartita abbiamo messo in campo delle iniziative per ricordarlo voglio una tra le tante che ho promosso io le luminarie con le sue frassi, le sue poesie in dialetto che sono tuttora affisse in città ma così come tante altre iniziative e così come questa che è una bellissima commemorazione. Il ricordo di nostro padre è soprattutto legato alla sua statura morale, nelle sue poesie cantare gli ultimi coloro che ha dato voce a personaggi anche minimi della nostra città che altrimenti non avrebbero avuto novero nel computo della storia cittadina e questo è un grande merito. Nel corso della seduta previsti l'intervento della professoressa Spedicato Iengo dell'Università d'Annunzio sessioni di ascolto di registrazioni originali dell'autore ed esecuzioni di brani musicali eseguiti e coordinati dal maestro Giuliano Mazzoccante alle 12.15 in zona Civitella sarà posta una targa commemorativa sulla facciata della casa natale del poeta in Vico Porticella numero 12. Nel pomeriggio alle 17 presso l'auditorium delle scienze biomediche in piazza Trento e Trieste ciclo di conversazioni su Raffaele Fraticelli uomo e poeta con interventi dell'arcivesco Monsignor Bruno Forte della professoressa Maria Rosaria Grazioso del giornalista Rai Nino Germano e del regista e scrittore Dino Viani.